Tra il 2010 e il 2014, circa 56 milioni di donne ogni anno hanno scelto di interrompere la gravidanza. 6.392 aborti ogni ora, 106 ogni minuto. La maggior parte di queste donne si ritrova in completa solitudine ad affrontare situazioni invalicabili. I centri Aiuto Vita accompagnano e sostengono concretamente le mamme e le famiglie che vivono con difficoltà la loro gravidanza. Attraverso percorsi di sostegno psicologico, progetti specifici di accoglienza e distribuzione di generi per la prima infanzia, nel 2016 il CAV di Legnago ha aiutato 212 famiglie e fatto nascere 50 bambini. Anche tu puoi donare speranza a queste mamme e ai loro bimbi. Dona il tuo 5x1000 al CAV di Legnago. Inserisci il codice 91006880230 nella dichiarazione dei redditi. Facciamo tutto quanto è possibile affinché queste vite possano vedere la luce. Facciamo tutto quanto è possibile. Grazie a tutti.